I reati a Milano sono al minimo storico, la città non è insicura. Il problema sono le aspettative dei milanesi, sempre molto elevate. Il prefetto Bruno Saccone interviene sul tema sicurezza nel capoluogo Lombardo dopo che con un post sui social Chiara Ferragni si era rivolta al sindaco Beppe Sala. Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Mi appello al nostro primo cittadino. Aveva scritto giorni fa l'influencer dando voce a una percezione diffusa tra furti, aggressioni e rapine di una violenza quotidiana è ormai fuori controllo. Non rispondo, non condivido quello che dice, è un'opinione. Era stato il commento del sindaco. Il prefetto replica invece dati alla mano. I reati sono calati del 30% negli ultimi dieci anni. I milanesi però hanno aspettative elevate in tutti i servizi e anche sulla sicurezza si attendono risposte adeguate. Calati i furti in appartamento sono più frequenti episodi di aggressività tra giovanissimi. spesso con uso di violenza sproporzionato. Dopo i lockdown e i due anni di pandemia, gli spazi aperti sono tornati ad affollarsi. Servirà maggiore presenza della polizia nelle strade, aggiunge il prefetto. Le forze dell'ordine stanno per aumentare di 250 unità. Ma sarà necessario intervenire anche sul degrado delle periferie e sull'abuso di alcol tra i teenager.